Vorrei chiamare con me, vieni Don Banzato, Don Davide Banzato, lo invitiamo su questo palco perché Don Davide è insieme a un ospite che accogliamo con un applauso, si chiama Ingrid ed è un ospite speciale, vero Don Davide? Ingrid è una giovane ragazza di origini indigene, le popolazioni indios vivono in totale simbiosi con la natura e ci insegnano anche come preservare le biodiversità e vorrei chiedere proprio a Ingrid qual è la vostra relazione con la madre terra? Prima di tutto vi chiedo di mettere le mani come le ho messe io, incrociate sul petto. Sentirete una forte vibrazione, è il cuore, è il vostro cuore ma anche il cuore della madre terra. E all'altra parte dove sentite il silenzio, lì c'è l'espirito, l'espirito che ci permette di sentire la madre terra. Per noi, le popolazioni indigene, e soprattutto per il mio popolo, la madre terra, l'Ajitxaguaya, è il tutto, è la madre che ci provee il alimento, è la che ci dà l'acqua sagata, è la che ci dà le planti medicinali e di potere, e è la che ci ricorda qual è il nostro origine, il nostro origine di creazione. Per questo noi le entregiamo a lei la nostra placenta al nascere e il nostro primo corte di cabello. La nostra connessione con lei è costante, così come si sente il pulso, così come si sente il coraggio vibrare. Per noi, per il popolo indigena, che chiamiamo la terra l'Ajitxaguaya, la terra è tutto, dalla terra ci viene da mangiare, il cibo ci viene l'acqua sacra, ci vengono le piante medicinali e quello che noi offriamo alla terra lo facciamo per ricordare anche quanto è importante.